C'è tempo sino al 3 febbraio per inviare tramite mail l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune tra gli abisi istituzionali per poter partecipare alle attività finalizzate alla coprogettazione degli interventi e prendere parte al progetto DatsLab, acronimo di Technological Hub and Testing Services Laboratory. Presegue infatti il processo di realizzazione di tale progetto partito con un partenariato al quale il Comune Nisseno ha aderito nel 2020, curato dal Gallater del Nisseno e che recentemente ha ottenuto un finanziamento di 300.000 euro dalla regione con i fondi del Pofestre 2014-2020. Fanno parte del partenariato diverse realtà come Comuni, tra questi quello Nisseno e Capofila, ma anche enti e scuole. L'assegnazione del finanziamento permette dunque adesso di procedere con un'altra fase, la possibilità di ampliare la partecipazione a qualunque altro operatore del territorio nell'ambito di alcuni settori. Obiettivo generale dell'intervento è quello di favorire l'innovazione sociale ed organizzativa nel territorio delle terre del Nisseno, si legge, sostenendo l'applicazione delle tecnologie abilitanti nei settori dei beni culturali, del turismo, dell'agrineconomy, dell'agri-food, dell'open data, dei servizi civici e collettivi, attraverso la realizzazione di un laboratorio innovativo che contribuisca fortemente a tenere il territorio agganciato ai trend tecnologici più promettenti per la crescita territoriale. E ancora si precisa, gli obiettivi specifici del progetto DatsLab sono quelli dell'applicazione delle tecnologie digitali innovative per massimizzare la conoscenza, la fruibilità, l'accessibilità, l'usabilità e la desiderabilità del territorio della Sicilia centrale, delle terre del Nisseno in particolare, e del suo patrimonio materiale e immateriale per la sua crescita socio-economica e per il supporto alla gestione dei flussi turistici potenzialmente ben superiori agli attuali. Si prevede dunque la predisposizione di un ambiente fisico, cioè un laboratorio digitale, ma anche diverse attività laboratoriali. Un'interazione tra gruppi utenze e laboratori TIC, cioè i partner con competenze tecnologiche, e ancora workshop, seminari, didattica in presenza e a distanza. Nel frattempo gli uffici comunali nella conduzione del progetto DatsLab, si precisa ancora nella nota, saranno affiancati da figure specializzate la cui selezione è attualmente in corso. Il centro Michele Abbate sarà la sede in cui si svolgerà il progetto.